ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciate un bel like ecco vi voglio far vedere un breve video sul lavoro che abbiamo che ho svolto sostituendo l'ariatore e poi impermeabilizzando il tutto vi volevo far vedere vedete se è creato lo strato che vi dicevo nel video precedente vedete così in questo modo anche il suono è completamente diverso perché si è creata in poche parole una pellicola di gomma per chi non ha visto il video precedente ha fatto l'impermeabilizzazione con il siga flex il siga fiber 5 2 0 della siga una volta fatte le sigillature con il siga flex e con il terostate questo è terostat siamo andati a proteggere completamente sia l'ariatore sia le sigillature sia tutta la zona attorno in modo che l'acqua qui è sicuro al cento per cento che non passa e questo è un lavoro che durerà nel tempo ok ragazzi così viaggiamo tranquilli sicuri e ci godiamo le nostre vacanze con le nostre caravan e camper ok ragazzi iscrivetevi al canale sul gruppo facebook e sui vari social dove mi potete seguire un abbraccio a tutti e al prossimo video ciao ciao